Parliamo di scuola, vi prego di dedicare 5 minuti di attenzione, perché questo tema sta diventando il tema fondamentale del dibattito politico di queste ore. E non so come fare a dirlo, perché qualcuno potrebbe pensare che sono felice delle discussioni, ma in realtà io sono proprio contento del fatto che finalmente la scuola sia al centro della discussione. Certo, non apprezzo alcuni toni, alcune polemiche, i boicottaggi di chi non vuole far partecipare i ragazzi all'invalsi, probabilmente abbiamo sbagliato anche noi del governo alcuni messaggi di comunicazione, ma l'idea che finalmente in Italia la scuola sia al centro per me è la cosa più importante di tutte. Oggi noi abbiamo avuto finalmente, dopo una dozzina di trimestri, il segno più al PIL, più 0,3%. Ma non servirà a niente tornare a crescere nelle statistiche se non torniamo a crescere nelle scuole. L'Italia non sarà mai la superpotenza demografica, la superpotenza geografica, la superpotenza diplomatica, può essere una superpotenza culturale. E allora dobbiamo recuperare tutto ciò che è cultura, educazione, istruzione, formazione e tentare di scrivere insieme una pagina nuova. Ecco che cos'è la buona scuola. Intendiamoci, la buona scuola c'è già in Italia. È la professoressa che nonostante il controsoffitto o le difficoltà della banda larga insegna ai ragazzi ad allargare il cuore con una poesia. È l'insegnante di musica che fa un'orchestra in una scuola di periferia. È la grande professionalità di chi riesce anche in laboratori scalcinati a far sperimentare ai ragazzi il gusto della ricerca, della curiosità. La buona scuola c'è già in Italia. Sono tante donne, tanti uomini che si impegnano con coraggio, con costanza e con determinazione. Quella che noi proponiamo è una riforma su alcuni punti, anzi non chiamiamo la riforma che non ne possiamo più. Sono alcuni punti concreti, puntuali, specifici di cui vorrei discutere insieme a voi. Perché se dichiariamo innanzitutto a noi stessi, forse riusciamo a capire dove siamo d'accordo, dove non siamo d'accordo, quali sono le cose che ci piacciono, quali sono le cose che non ci piacciono.